Uno dei pilastri della nostra economia è il principio di dipendere da noi stessi. Questa è una delle grandi opere dell'Eritrea, piantare alberi dappertutto, qui ci saranno poi boschi, ci saranno coltivazioni, ci sarà vita. Questa è una delle grandi opere dell'Eritrea, piantare alberi dappertutto, ci saranno coltivazioni, ci saranno coltivazioni, ci saranno coltivazioni, ci saranno coltivazioni, ci saranno coltivazioni. Qui mi sono rilassati a Milano, e non sono come un film, non sono come scrivere il film, ci saranno coltivazioni di Milano, quindi la nostra comunità è un'escrizione, anche se ci saranno coltivazioni, e quindi ci saranno coltivazioni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.